Arom Caffè viene presentato da Salvatore Tarallo, ci dia informazioni su questa azienda. Buongiorno, noi siamo presenti nel settore da ben 60 anni, un'azienda di famiglia situata a San Giorgio a Cremano. Facciamo Caffè in Grani da 60 anni, da quando sono entrato in azienda, quindi da circa 10-12 anni, abbiamo inserito anche la referenza delle cialde, delle capsule. Vorrei capire il motivo per cui devo scegliere Arom Caffè. Arom Caffè non è solo un caffè ma è un'esperienza, è un'emozione che noi cerchiamo di regalare ai nostri clienti slash amici da ormai 60 anni. Tutte le persone che ci conoscono hanno sempre apprezzato, lasciamo stare il gusto che è soggettivo, ma hanno sempre apprezzato il nostro impegno, la nostra dedizione nella ricerca di un prodotto sempre migliore, quotidianamente migliore. Non ci fermiamo, cerchiamo di restare umili e proviamo sempre a fare di meglio, sperimentando nuove miscele di caffè con grande apertura verso nuovi settori, nuovi mercati e nuovi prodotti. Qual è il migliore caffè che producete? La migliore miscela? La nostra miscela, attualmente in questa fiera abbiamo deciso di provare la Honey Plus che è una nuova miscela che abbiamo inserito, appunto stiamo cercando di capire se può soddisfare il palato dei nostri clienti che sono sempre pretenziosi e sempre pronti appunto ad assaggiare qualcosa di nuovo, di fresco e di saporito. Io parlando con lei ho parlato di 10 anni di introduzione, ma 50 anni prima c'era qualcuno che ha fatto la storia di questa azienda. 50 anni prima c'era il nonno mio padre, poi lui è la terza generazione, poi sono subentrato io che sono il titolare dell'azienda. Siamo presenti qua, per la prima volta stiamo provando questa fiera perché ci interessa aprire mercati nuovi, abbiamo dei prodotti che rispondono molto bene, un marchio qualificato, molto apprezzato sul territorio e riteniamo di avere le carte in regola per poter ampliare il nostro discorso anche all'estero, soprattutto all'estero, anche in virtù della creazione di nuovi prodotti, cialde, capusole che prima non erano il nostro corpo.